musica 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 madonna oh ma fai una fatica in sto gioco ad andare avanti se non hai quella roba li musica troppo buio caso sto punto che è oh mio dio musica 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 sento di strani versi ma non capisco chi era mmm ma guarda chi era invece dove 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 guarda che a giramento fantastico senza neanche morire adesso devo evitare di essere ucciso da sti 2 e 3 dementi qui che crepa ma non ho neanche perso tanta vita poi eh ne ricordavo 3 comunque oh dove è quello grande avevo sentito il slumber bello che l'avevo visto ma che è ma questa è la nightmare questa è la nightmare non è possibile che sia la norma questa è impossibile guardate come cazzo si impegnano a ucciderli non è possibile dai quella è la via dai 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 datemi la chiave datemi la chiave anco no ci sono troppi slimmer cazzo è impossibile finire sto gioco con tutti questi cazzo mostri se crepo tante volte c'è da capire che questa è la nightmare no in sostanza no però no no questa è la nightmare non si vede lontano un chilometro che la nightmare cazzo se si vede che la nightmare ma quanti ce ne sono di tempo neanche nè 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 qua non abbiamo capito un cazzo nella vita l'ho già capito che questa è la nightmare ve lo dico io che questa è la nightmare sembra impossibile che questa non sia la nightmare poi adesso per andare avanti qui se ci dovessi andare normalmente la dovrei attivare questo e non so dove sia poi anche perché ho una vaga memoria di sto gioco io una maniera differente se ce l'avrei però è rischiosa ma rischiosa di poco ecco ce l'ho fatta alla prima stranamente ce l'ho fatta alla prima chiave e culo mi ci vuole culo e non è semplice avere sto culo niente aspettate che ricarico aspettate ok ok ora mi manca questo ma lei mette dal cazzo ok mi siamo ferramenti ok non so se sia l'ultimo livello o penultimo quello che è comunque siamo vicini alla fine e ho sto livello ok ma lo ricordo è cortissimo è cortissimo sto livello ve lo dico bello che il gioco vi tenterà di trollarmi dicendo ma non è così corto finiscilo bestia ok ma non è corto dai che puoi trovare più roba ma vai a farti due sacchi di coglioni che vorrete li vedete guarda uno due tre are you sure to want to exit now allora io vorrei finirlo sto gioco mi dispiace ma è vero io voglio finirlo mi dispiace perché così si salta mezzo gioco così però cioè io non capisco perché me lo chiedi cioè io voglio andarmene via cioè che cazzo se quando ci giocherò da solo si mi potrò anche fare un po' di trollata da solo però io al momento non ho voglia di starmi a smaronare a decidere di 114 di missi perché sono dispersi tutta la mappa per cercare cose per pigliare la vita ma in omaggio perché quella stanza là di fianco all'exit che lì ci vuole una chiave blu ed è in culo al mondo nella mappa vi dà come ricompensa uno scudo rosso e una cazzo di io sono nella merda totale prima li uccido meglio è ok sono ancora vivi no dunque stavo dicendo in omaggio vi darà uno scudo rosso e uno super health cosa che al momento non mi serviva guardate sono pur campato lo stesso in un momento qui esplodi perché non ne ho voglia di vederti esplodi 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 ok non so dove sia andato l'altro bestioni il primo che mi tocca muoio merda no ancora no però potrei morire fra due secondi no che culo oh 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 che rinca siamo nel cielo uff allora qui mi ci spavo no dai meglio che gli altri devo stinziare a stare oh ecco questo ti ammazza con un corpo se ti becca però madonna che simpatico è questo gioco ok no 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 dai che so che cosa c'ho io dai so come ucciderli è che sono demente io mi ero dimenticato dai non è che so come ucciderli vai 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 i primi tre colpi li tiro ok ho fatto una cosa fighissima lo so allora adesso non mi ricordo cosa bisogna se basta veramente fare così sto qui allora io non mi ricordo adesso cosa bisogna fare perché non sto zitto crepa ho fatto una cazzata ok ma buongiorno ok questa qui è la stanza di prima ok prima proviamo a buttarci direttamente in acqua è un rischio da porre eh fatti aspetta ci voglio riprovare cazzo sono anche qui dai che come mi mi sono salvato in pochi secondi oddio no ci arrivo quella che non dovrei usare in acqua ve lo dico dio mio stavo per crepare se sparavo oh mio dio che che gioco malato però dio sanzi certamente oddio sto punto chi è chi è che ho dietro non lo vedo che mi serve la chiave blu no come avete fatta vedermi cazzo ok ok non mi hanno visto stranamente questi lo sanno che sono di sopra ti prego dimmi che non mi ha visto eh però devo ucciderlo no toglietevi dai maroni come c'è un altro oh ah dovevo spingere il pulsante dai ma adesso sono demente ok ho aperto il muro di so oh spero anche sia l'ultimo livello signori perché guarda voglio finirlo magari forse sarà diviso in due parti questo video una specie di una specie di ci starebbe scrippa capite cosa merda ma dov'è che bastardo ok si è tutto questo per salire qua per fare questo lo so potrei usare un razzo eh mortacci di chi mi ha creato anche voi il punto lì è un po' è un po' studiato male mi dicono ma ce ne sono altri dai su su che ti muori devo riuscire ad evitare che esplodino perché se loro non esplodono non muoiono oh questo è l'ultimo livello oh che culo hai voglia di scherzare da dove è arrivato ah si ovvio ti do tutta la tua ragione per avermi visto solo adesso guarda ok credo che questi si devono prendere una tisana prima o poi no eh volevi fregarmi eh ii ti attacchi al cazzo ii si buonanotte la cosa che detesto di sto gioco è che quando ogni volta finisci un capitolo ti toglie tutte le armi quella è l'unica cosa che mi 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 i i i i i i i o che c'è una scalina eh si puntaci che riesco a venire lì io io non vi ho visto Niente Sono morti Merda Merda è la chiave lì Che cazzo devo fare Aiuto Ma io ti uccido A meno uno in meno Credo che devo andare nella trappola Giusto? Credo proprio di no Togliti dalle palle Demente blu No Morto senza motivo Ecco E muoio con quello Che non mi ha neanche toccato lui C'è un Vertex leggermente Brutto Cazzo è quella palla lì? Oddio Bugatissimo Ma utile Cazzo che bug Non si apre quel punto lì A me mi scoccia Perché ci sono due mostri Non crepa Oh 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 Beh io sei ma che io Detestate Ma là che muori Ma là che muori Minchia come ho fregato di gioco Dai sì Il signor Quakecraft posso l'accompagnare Non fosse stato per la generezza dei creatori di Quake Che a quest'ora sarei già morto in quel punto là Ma con un pirro sarei morto Chi è? Mi sono salvato con un socco Dov'è? Dai Oh che culo Ho visto i otto piedi girare No Tu non l'hai visto? Ma neanche no guarda Non utilizzerei mai Il fresino contro il loro Bestioni Dimmi che si è incariato veramente lì Ok esplosio Forse ho capito cosa dovevo fare Grazie Eh ma non torna più giù? Almeno lui me lo son tolto No Che cazzo ho fatto? Perché sono demente come non so cosa anch'io Serio? No Oh qualcosa di decente l'ho trovato almeno Questo punto non l'avevo ancora visto No l'avevo visto E quello lì non l'avevo ancora ucciso Si vede Oh 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 Invece non ce l'ho mai venuto Ok qualcosa ha fatto Ah ok Diciamo che ho trovato una cosa decente Ma ah ok No No non No non No non No non No non Che culo ma guarda un po' meno spettato Allora, la faccio Ahia, aia Ah va fa' Dai, questo me lo ricordavo No, sto schiattando Ok Ho trovato quello che mi serviva Ok Dovevo fare qualche minazione là Che mi ero dimenticato come era Ok Ultimo livello, eccolo qua Mi piace saltare Ma vai se è stronzo Curola di là No, no, no Da parte che i nidi sei morto Ok Peggio di partorire Dio Cristo C'è, c'è, mettetelo lì Che cazzo mi serve adesso Il code damage Ti va a far culo vai Oh mio dio Mi ho finito questo capitolo Now you have all the four rooms You since Tremendous Invisible Force Moving to Until Uncene Bla 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 Lo ricordo a memoria O mai quella frase lì Comunque Di dice che devi andare a far Adesso hai tutte le rune E puoi andare a ammassare Un demente Questo video è giurato quasi un'ora Anzi più di un'ora forse Però verrà diviso sicuramente in molti pezzi Il boss Ti sta aspettando E se sti dementi di pezzi Non rompono più Il cazzo Starei bene Doli Finchè sono lì Eccoci qua Il boss È vicino E la fine Nel video È vicino Manca solo Il boss Da ammassare Fidatevi che questo punto qui Sembra difficile Ma è facile Un altro Madonna Ti venga un colpo Eh non puoi evitarlo questo adesso Mi sono incagliato Ecco Pure quella ci si mette Dai Per culo L'ho evitato di morire Stavolta Adesso devo salvare Appena sono qui Spero che si spawneranno all'infinito E con il problema E con questa poca vita Non posso fare lo speedrun E ucciderli tutti Alla volta Che sai quanto mi hai fatto male Perda Ma stai scherzando Ma stai scherzando Dietro al culo Cazzo Sono sparato No 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 Signori Questo è un bug Non doveva succedere Allora E vabbè Non ce la faccio lì Adesso Adesso muore Adesso è buggato Sto gioco Guarda Ecco Ecco Gioco di merda Veramente Non fa così Mi sta sul cazzo Gioco Veramente E che se vado di là C'è l'altro Mi sta sul cazzo Sa cosa Veramente Eh no Vedi Vedi Non riesci a scappare È inutile Aspetta No Si è spawnato lì Quindi posso andare fino qua Eh però c'è sempre lui Tra le palle Non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Hai poca roba Hai poca roba È inutile C'hai poca roba E c'hai poca roba È inutile Se non hai un culo tremendo A uccidere Ecco Mortacci Su Dov'è? No No Questo è un cazzo No Hai voglia di scherzare Ce n'è più di uno Adesso No Sono in troppi Oddio Potrei farcela Ma Devo studiarmela bene Il tempo qui Stavolta Dai fai finta di Dammi lo schiaffo Ok Ce l'ho fatto Oddio 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 L'ho finito In nightmare Oddio Oh signore Benedetto E poi questo qui Intrapasce intanto Oddio Ah intanto Sta morendo Poi Congraziazioni Hai finito You have beaten The Hido Tanto Prima o poi Muori Mostro Di merda Ora Sei il master Tanti saluti Dalla IT Software E anche a voi Signori Siete dei Gengi Dei giochi Proprio Avete fatto Dei giochi Sono dei capolavori Vabbè Signore Abbiamo finito Quake 1 Spero che vi sia piaciuto Questo video Perché Ci ho messo un po' Di impegno Perché Non volevo finirlo Con questo gioco E' sempre una soddisfazione Finire un gioco Degli anni 90 Ok Il video di oggi Finisce qui Commentate Iscrivetevi Se vi è piaciuto Il video Mettete mi piace Al prossimo video Con Quaker Craft E' morto il mostro Ci vediamo E' morto il mostro